... Presidente, Ministro... Stiamo lavorando alla risoluzione, ovviamente l'Eurosummit che si terrà adesso non sarà quello decisivo sul MES, a gennaio come abbiamo letto dalla lettera di Centeno si faranno alcuni approfondimenti su alcune criticità del MES, ovviamente noi vogliamo creare nella risoluzione di domani tutte le tutele per cui il Parlamento nelle prossime settimane debba essere ulteriormente consultato in modo tale da dare una linea chiara al prossimo Eurogruppo, al prossimo Eurosummit. Il gruppo è compatto del Movimento 5 Stelle? Li ho trovati molto compatti, stiamo lavorando al meglio, quindi si va avanti così. Grazie. In questo programma avete parlato anche degli impegni per il prossimo anno? Grazie.